Abbiamo dimostrato che quando lo Stato fa lo Stato non ci si inchina ai costruttori, ai palazzinari. Lo stadio si fa, ma si fa secondo le nostre regole, secondo i nostri principi e ci fa piacere che l'associazione, la squadra calcio Roma sia venuta incontro a questa nostra richiesta. E quindi si farà uno stadio, ma le opere a contorno avranno il 50% in meno di cubature. E questo è molto importante. Perché non l'hanno fatto quelli di prima? Perché quelli di prima avevano permesso che si facessero il 50% di cubature in più e la classe energetica degli edifici per l'impatto ambientale fosse più bassa? Noi l'abbiamo ottenuto.